In questa lezione, come anticipato, vogliamo riprendere alcuni elementi del pensiero di Rosmini sollecitati dal aver tratteggiato la teoria della coscienza credente nelle parti più aggiornate e nelle parti, se vogliamo, più focalizzate dallo stesso autore Sequeri come direzioni nelle quali procedere per la pertinenza sia teologica, sia filosofica, sia della teoria. Le opere di Rosmini che vogliamo considerare sono due, in particolare la conclusione alla psicologia e una delle schematizzazioni che Rosmini compie tra le molteplici all'interno del ruolo all'interno dell'opera Vincenzo Gioberti e il panteismo. Procediamo con ordine. L'ultimo libro della psicologia tratta delle leggi dell'animalità. Le leggi dell'animalità sono per noi riprese in questo videocorso alla luce della necessità di riconsiderare il sentimento come luogo del giudizio, la sensibilità più diffusamente come luogo del giudizio, proprio in quella prospettiva che ci porta a riflettere sulla dialettica dell'estetica di Dio. Nella conclusione Rosmini ha alcuni passaggi rispetto ai quali vogliamo soffermarci insieme. Al numero 2228 della psicologia così scrive, e qui basti che questo libro delle leggi dell'animalità, dove si disse tanto poco di un subietto senza confini, sarà paruto lungo a quanti cercando nella psicologia esclusivamente la dottrina dell'anima intellettiva non intendono che la condizionata alla dottrina del principio sensitivo, il qual vero si tentò da noi di porre in evidenza e tuttavia non ci confidiamo di averne persuaso ogni fatta di persone. Il principio sensitivo, ci dice Rosmini, condiziona la dottrina dell'anima sensitiva. al numero 2230 Rosmini prosegue la sua riflessione, ma per conchiudere finalmente il lungo nostro lavoro e in qualche modo ricapitolarlo, la natura dell'anima semplicissima e indefinitamente moltiplice sviluppo della sua meravigliosa attività, diedero argomento alla prima e alla seconda parte dell'opera. Vedemmo nella prima parte come l'anima sia una in ciascun uomo, come ella sia il principio semplice di tutte le operazioni umane, come sia sostanza e in pari tempo principio di un sentimento, come questo principio sentimentale e sostanziale sia intellettivo, come questo principio intellettivo sia un'immediata e immanente percezione di un corpo vivente, come mediante questa percezione e immanente, egli si compenetri col principio sensitivo e ne risulti un solo principio intellettivo e sensitivo, avente un doppio termine d'azione, l'inteso essere ideale e il sentito corpo soggettivo e quindi acquisti condizione di principio razionale nel quale è messo in essere l'uomo. Questo principio razionale percepisce se stesso nell'essere ideale e così acquista la coscienza e reso consapevole si esprime col vocabolo io. La percezione di sé è il principio della psicologia e perciò questa appartiene alle scienze di percezione. Ella si rinviene e si svolge con l'osservazione interiore di ciò che si contiene, permane e cangia nello stesso io e dell'ordine in cui stanno tra di loro gli elementi che lo costituiscono. Nenuna concrezione di materia entra nell'anima umana e però è spirituale, il suo termine primordiale è l'essere di natura eterna e indefinita, quindi sebbene ella possa perdere il termine corporeo con che dicesi che l'uomo muore perché se ne separano quelle due parti onde egli risulta, tuttavia l'anima stessa intellettiva e immortale dà un'ordinazione all'ente infinito. Con questo lieto risultamento chiudemmo la prima parte della psicologia. Aprimo la seconda con indagare in che modo quelle tante attività dell'anima che nelle sue passioni ed azioni si manifestano, giacciano da principio tutte contenute quasi dormiente nella semplicissima essenza e come si sveglino poscia e da lei si distinguono, ricerca che ci obbligò ad entrare in alcune questioni ontologiche, le quali si sarebbero da noi potute non anche abbreviare se ad una scienza ontologica già formata avessimo potuto riportarci. Ma l'ontologia è per Anco quella scienza che di tutte rimane più imperfetta come di tutte è più ricca. Trovammo dunque nella semplicità dell'anima una moltiplicità organata ed armonica quasi a lei aderente ma che non penetra in essa per modo da disciogliere l'unità e la perfetta semplicità. Vedemmo che l'anima, unico principio, si pone in atto mediante una pluralità di termini che la attua diversamente senza perciò moltiplicarla, anzi rimanendo ella identica in tutti i diversi suoi atti. Ma tutte queste attività, salto qualche riga, conservano nel loro operare delle leggi costanti e meravigliose e per entro a questa nuova investigazione quasi in non mediocre pelago non dubitammo di sospingere pure la nostra navicella. Volendo noi dunque svolgere e descrivere le leggi secondo cui operano costantemente le umane potenze, anche qui innanzi di ogni altra cosa cercamo di tutte quelle leggi la prima ragione ed origine nell'essenza dell'anima, d'onde di mano in mano le facemmo posce a tutte uscire. L'ultimo libro finalmente che tratta delle leggi dell'animalità, noi l'aggiungemmo come appendice che quelle non sono propriamente leggi dell'attività umana, ma leggi a cui questa è quasi di continuo condizionata e mirabilmente connessa. Saltando al numero 2231 vogliamo sottolineare alcuni ultimi passaggi. ragionare convenientemente e in qualche modo pienamente della perfezione della destinazione dell'anima non si può senza uscire da lei. Conviene che il discorso si spinga con ardire a più sublime argomento che si innalzi fino alla divinità. Conviene che abbandoni per qualche tempo l'anima e dopo investigate le cose divine e Dio stesso, quanto all'uomo è conceduto a lei faccia ritorno. Come l'anima dall'ente eterno nel cui seno e la dimora perpetuamente può derivare a sé la propria perfezione? Salto qualche riga. Il che dimostra a sufficienza che questa siccome tutte le altre scienze umane per sé sola è imperfetta, ne si può perfezionare se non oltrepassa i confini della propria illimitata sfera e non si continua con altre scienze maggiori di lei che lasciandosi addietro l'universo creato, ne trovano il creatore, il quale come dello stesso universo è il principio e la causa, così neanche il fine, la ragione e il perfezionamento, l'eterna sublimissima destinazione. Per questo noi giudicammo del tutto necessario riservarci a favellare intorno ai destini dell'anima umana nell'antropologia soprannaturale la quale deve tener luogo dell'ultima parte e del glorioso fastigio della psicologia. In questa trattazione il nostro autore pone in evidenza i limiti della metafisica dell'autoaffezione, pone in evidenza tali limiti nel momento in cui si imbatte con il discorso del razionalismo teologico. Razionalismo teologico che non approfondisce quella capacità di affezione che viene ad essere riconosciuta ed identificata dallo stesso Rosmini in quel numero che abbiamo letto nel numero 2230. L'anima, cioè, è sostanza e in pari tempo principio di un sentimento e come questo principio sentimentale e sostanziale sia intellettivo e come questo principio sia tale da avere un'immediata e immanente percezione di un corpo vivente e mediante questa percezione immanente si compenetra col principio sensitivo e ne risulti un solo principio avente un doppio termine d'azione. Principio che acquista la coscienza e reso consapevole come si esprime nel vocabolo, col vocabolo io. Dunque la scienza di percezione viene ad avere una valenza che è nel contempo una valenza di ordine ontologico e nel contempo una valenza di ordine metafisico. Per Rosmini una psicologia che non metta a tema questo principio che è nello stesso tempo un principio intellettivo e sensitivo parzializza la riflessione antropologica. Ora vogliamo fare, vogliamo compiere un passo in più e facendo un ulteriore passo vogliamo proprio focalizzare un contributo ancora più specifico e un contributo ancora più interessante per il tema che stiamo affrontando dato, offerto da Rosmini. Proprio nel volume Vincenzo Gioberti e il Panteismo nel momento in cui Rosmini tratta della essenza dell'anima nel quale riflettere rientrano le potenze passive e le potenze passive e le potenze attive ha un'attenzione specifica sulla sensitività quale è prima potenza passiva dell'essenza dell'anima e laddove tratta della sensitività il Rosmini ha una triplice distinzione. In primo luogo tratta della sensitività come facoltà universale. In secondo luogo della sensitività particolare e in terzo luogo della sensitività spirituale illimitata. È proprio là dove il Rosmini che Rosmini tratta della sensitività come sensitività spirituale illimitata che Rosmini afferma la affezione. La affezione nei termini di affezioni spirituali e trattando delle affezioni spirituali Rosmini fa una premessa. Relativamente alla sensitività spirituale illimitata tratta della facoltà di avere i sentimenti e distingue la facoltà di avere i sentimenti in due tipologie. La prima è la facoltà incipiente di intuire l'essere ideale costitutivo dell'intelligenza umana nell'ordine naturale. La seconda è la facoltà perfetta della percezione dell'essere insussistente che è l'ordine soprannaturale. Già in questa duplice distinzione della sensitività spirituale Rosmini opera una distinzione nella originarietà, vorremmo dire con Levinà, una distinzione nella originarietà che permette di evitare l'ontologismo, il modernismo e il razionalismo teologico, perché come stiamo per vedere a un certo punto, è in questo contesto che Rosmini parla dell'affezione e dell'affezione spirituale sotto i termini appunto della passione e distingue le affezioni spirituali dalle affezioni spirituali per grazia. Questa distinzione ci aiuta a cogliere proprio la capacità che Rosmini ha avuto di uscire indenne dall'ontologismo modernista e dal razionalismo teologico, dell'estrinsecismo, della grazia e dall'ontologismo immanentista. Rosmini nella sua opera è uscito indenne da questa duplice tentazione e tuttavia non gli è stato subito riconosciuto, ma gli viene riconosciuto ora. a questo proposito ci risulta pertinente ribadire la riflessione di Sequeri, perché ci chiediamo, non è stato riconosciuto fin da subito a Rosmini questa capacità di evitare l'ontologismo immanentista e di uscire indenne dal razionalismo teologico. Non gli è stato riconosciuto proprio perché, con Sequeri vogliamo dire, l'ontologia era ispirata ad una metafisica dell'autoaffezione che aveva di mira l'obiettivo di affermare l'assoluta impossedibilità, l'assoluta trascendenza di Dio contro il pericolo dell'ontologismo e tuttavia è questa metafisica dell'autoaffezione all'origine, alla base del razionalismo teologico da un lato e dall'altro lato una considerazione estremamente immanentistica della affezione ha impedito la necessaria distinzione tra quelle che sono le affezioni spirituali che Rosmini chiama appunto passioni e quelle affezioni spirituali che invece vengono ad essere sperimentate per grazia. Procedendo dopo questa quanto mai preziosa precisazione, consideriamo il modo con cui Rosmini approfondisce le affezioni spirituali che appunto egli chiama passioni. Le affezioni per Rosmini si distinguono in due campi, sostanzialmente l'affezione generale che egli chiama amore e le affezioni particolari. Le affezioni particolari per lui sono suddivise in due ambiti, le affezioni particolari che egli chiama concupiscibili e le affezioni particolari che egli chiama irascibili. Le affezioni concupiscibili nella riflessione di Rosmini sono le seguenti. L'amore come particolare passione, l'odio, il desiderio, l'aborrimento, il gaudio, dove il gaudio trova una triplice distinzione. Il gaudio del bene altrui che si manifesta come simpatia e come benevolenza. Il gaudio del male e altrui che si manifesta come malignità. Il gaudio del bene proprio. Ancora nelle affezioni particolari che appunto Rosmini chiama l'affezione concupiscibili c'è la tristezza, la tristezza che egli ripartisce in tre ambiti. La tristezza del male altrui che si può però codificare sotto la cifra dell'antipatia o sotto la cifra della compassione e la tristezza del bene altrui che ha l'invidia e del male proprio. L'affezione particolare e irascibile è quella che porta allo sdegno, al timore, all'audacia, alla speranza, alla disperazione. Questa è la trattazione delle affezioni, così come le schematizza, perché di questo si tratta, di una schematizzazione, così come le schematizza Rosmini. Poi per Rosmini la sensitività spirituale illimitata ha altre tre caratteristiche, oltre alla facoltà di avere i sentimenti e la facoltà di ritenere i sentimenti, di risuscitare i sentimenti e di associare i sentimenti. Ciò che di questa schematizzazione a noi preme particolarmente sottolineare è la sensitività spirituale illimitata come facoltà incipiente di intuire l'essere ideale e faremo anche l'altra sottolineatura, ci preme sottolineare anche all'interno della sensitività spirituale illimitata e della facoltà che nell'avere i sentimenti, non nell'ordine soprannaturale, ma nell'ordine naturale è la facoltà incipiente di intuire l'essere ideale, è la facoltà della rappresentazione e delle passioni. Ci preme sottolineare questa attenzione che Rosmini porta alla nostra considerazione, la sensitività spirituale illimitata è una facoltà di intuire l'essere ideale. È in questa originarietà ontologica dell'affezione che ritroviamo una continuità nella indicazione che abbiamo riscontrato in sequeri. Una continuità e in qualche modo una strumentazione preziosa rispetto alla quale a nostro giudizio risulterebbe particolarmente utile e significativo porre una vera e propria ermeneutica. Ci chiediamo in altri termini che ermeneutica possiamo mettere in atto tra questa riflessione rosminiana di Rosmini sull'affezione e la attuale riflessione sulla affezione operata dalla coscienza credente, dalla teoria della coscienza credente in Pierangelo Sequeri. È questo a nostro modesto parere un ambito nel quale un'ermeneutica condotta a partire dalla riflessione sull'Evinà può dare dei contributi nuovi, originali, dei contributi che concorrono effettivamente ad un incremento della riflessione della teoresi sia teologica sia filosofica per il cammino, per l'itinerario, per il percorso della postmodernità. È una riflessione che va nella direzione di farci cogliere come nella sensitività spirituale illimitata che incipientemente intuisce l'essere ideale opera un dinamismo teoretico, quello appunto della dialettica, nella quale dialettica a fianco della analogicità trova pertinenza ontologico-metafisica la portata teoretica degli affetti. a questo proposito ci sembra ora pertinente richiamare la circolarità come metateoria, proprio perché la circolarità in quanto metateoria, nell'autore Margaritti che abbiamo sottolineato, è ermeneuticamente fruibile come dialetticità della affezione nella sua portata metafisica. E ancora a questo proposito ci risulterebbe pertinente mostrare come questo approccio dialettico sia omologabile anche con una prospettiva antropologica che potremmo definire andragogica. Che cosa intendiamo con la prospettiva andragogica? Intendiamo una riflessione sull'antropologico, tale per cui la percezione della portata ontologica dell'affezione nella prospettiva che integra la analogicità con la dialetticità, porta a considerare la relazione, la relazione, la generazione, la relazione uomo-Dio e la generazione del verbo incarnato nell'ottica di un fondamento, di una fondatezza, di un attingimento fenomenologico del fondamento a partire dal percorso che dall'uomo conduce all'esperienza di Dio. Questo in qualche modo, quodammodo vogliamo sottolineare, l'approdo al quale ci sembra di essere giunti e che vogliamo riprendere all'interno della conclusione. Un approdo che ci porta a scoprire che nella riflessione di Rosmini è presente una tematica, quella appunto della coscienza, quella dell'affezione, tale da risultare pertinentemente postmoderna, con l'aiuto di una mediazione epocale realizzata tramite la riflessione sul pensiero di Levinà e con interlocutore il pensiero di Sequeri. Rosmini, lo vogliamo sottolineare ancora, alla luce di una riflessione condotta nella strumentazione della quarta fase, è risultato di sorprendente attualità nell'attuale dibattito sulla identità della postmodernità grazie alla mediazione epocale operata con Levinà e grazie all'aver interlocutore per immettere nel dibattito contemporaneo Rosmini il pensiero di Pierangelo Sequeri. Questa attualità resta da ponderare, da calibrare e tuttavia ci sembra un'attualità che...